Promozione della salute. Questo è il tema che andiamo ad affrontare oggi insieme perché la nostra salute, come sappiamo, è il nostro bene principale, ma spesso tendiamo a sottovalutarne l'importanza. Oggi andremo allora a conoscere da vicino quelle che sono tante problematiche, ma anche tante risoluzioni per la nostra salute. Per fare questo ho due esperti, con me qui, due esperti del settore al quale do il benvenuto. Il dottor Stefano Grandi, presidente di Domus Nova SPA, benvenuto. Di fianco a lui invece abbiamo Claudio Mari, responsabile della radiologia appunto della struttura Domus Nova. A entrambi quindi la benvenuta, direi di entrare subito nel caldo appunto della nostra trasmissione. Chiedendo subito al dottor Grandi, abbiamo detto Domus Nova, che struttura è? Di che cosa vi occupate? Allora, Domus Nova è un ospedale privato a Ravenna. Sono 63 anni che è stato fondato e mi piace ricordare che i soci fondatori, che erano quasi tutti medici, erano solo 22 o 23. A tutt'oggi la società per azioni che ho l'onore e il piacere di condurre, siamo diventati 247 soci con una banca importante, la Cassa di risparmio di Ravenna, alcune cooperative che lavorano con noi, dei nostri dipendenti e tanti tanti cittadini di Ravenna. Questo per dire che mi piace dire che è l'ospedale privato dei Ravennati, nel senso che siamo 247 soci. Da sempre, e ho avuto il piacere che mio padre era un fondatore dell'ospedale tanti anni fa, da sempre Domus Nova è stato molto attenta alla promozione della salute, il titolo di questa giornata, appunto perché come medico, e mi piace dire che io sono fondamentalmente un medico, non solo un imprenditore, non un amministratore di una società, come medico il nostro dovere, il nostro pensiero è quello di sperare che i pazienti non abbiano nel tempo più bisogno di noi, nel senso che sempre di più cercare di prevenire le malattie e questa è la missione del. Poi, purtroppo ancora c'è ancora tanto bisogno di sanità e Domus Nova è una società che negli anni è cresciuta moltissimo e facciamo praticamente, non dico tutto perché la sanità è veramente tanto ampia, però abbiamo, mi viene sempre quando parlo di Domus Nova di partire geograficamente dall'alto della nostra struttura, una struttura che accoglie pazienti che hanno bisogno di dialisi, abbiamo 18 postazioni dialitiche, facciamo circa 10.000 dialisi all'anno con tanti pazienti che d'estate, che sono pazienti che hanno la necessità di non staccarsi dalla macchina di cui hanno bisogno due o tre volte alla settimana, che vengono anche da lontano e vengono per andare in vacanza nelle nostre riviere, ma hanno bisogno di una struttura che li accoglia. Quindi abbiamo questa dialisi e che ospita anche tanti, ospita nel senso che cura tanti pazienti di Ravenna. Poi abbiamo un reparto di medicina, medicina dove vengono trattati pazienti che vengono principalmente trasferiti dal pronto soccorso e dalla medicina d'urgenza del nostro ospedale qui di Ravenna e abbiamo mediamente 50, 55, 60 pazienti giornalmente. Poi abbiamo l'area chirurgica e per chirurgia non intendo solo la chirurgia generale, quanto anche l'ortopedia, l'oculistica, l'otorino-laringoiatria, la ginecologia e in totale le nostre sale operatorie trattano circa 3.000 pazienti all'anno. Quindi è una struttura che è molto integrata, doverosamente integrata con il servizio sanitario regionale, col quale abbiamo ottimi rapporti con la direzione generale, che ci commissiona tutti gli anni certe tipologie di ricoveri per vedere di essere utili al sistema in modo che, ad esempio, per quel che riguarda l'ospedalità pubblica, l'ospedale civile di Ravenna, l'ospedale sia più libero di occuparsi delle urgenze, dei traumi, delle cose che noi non potremmo trattare e quindi noi alleggeriamo le sale operatorie dell'ospedale, nell'ortopedia, nella chirurgia generale, nella ginecologia per poterli, per poter fare in modo che loro siano più liberi di poter occuparsi per le cose più urgenti e più importanti. Certo, ci accennava già alcune delle vostre specialità, ma entreremo poi ulteriormente nello specifico. Ci parlava di quella che è, diciamo, l'ossatura dell'ospedale. Parlando di ossatura, ci viene in mente anche, abbiamo un veloce collegamento anche con quello che riguarda il tema appunto della radiologia, un reparto sicuramente importante. Prima facevamo già due chiacchiere con il medico qui appunto presente con noi e ci raccontava che a volte magari viene sottovalutata l'importanza della radiologia. Invece è indispensabile, ci raccontava, per ogni tipo di patologia, per ogni tipo comunque di cose che viene affrontata in ambito medico. Ci racconti un po' questa radiologia della Domus Nova? Sì, sì. Beh, la radiologia della Domus Nova è sempre esistita. Ultimamente comunque nell'ottica del miglioramento e del rinnovamento la radiologia ha fatto uno sforzo grandissimo. La Domus ha fatto uno sforzo grandissimo. Difatti abbiamo rinnovato sia la radiologia tradizionale mettendo un apparecchio di radiologia diretta. Adesso non sto a spiegare per ragioni di tempo. Comunque è una tecnica che permette di ottenere le immagini radiologiche senza le vecchie cassette e soprattutto con un risparmio di dose notevole. Ma la cosa più importante, la cosa un pochino più onerosa e più bella sia dal punto di vista organizzativo che economico è stata la risonanza magnetica. Noi facevamo già risonanza magnetica ma con un apparecchio a basso campo. Abbiamo deciso di cambiarlo e di mettere una risonanza nuovissima ad alto campo. Per alto campo si intende l'intensità del campo magnetico che si utilizza per ottenere le immagini. Quindi tanto maggiore è il campo magnetico, tanto migliore è la qualità delle immagini che si ottiene. Com'è la sua equip di lavoro all'interno della struttura? Quanto è importante la collaborazione? Beh, tantissimo. Noi siamo quattro medici e siamo cinque tecnici. La collaborazione fra noi e i tecnici è importantissima. E do la fortuna di avere dei collaboratori sia medici che tecnici bravissimi, molto motivati. e molto bravi che si sono impegnati moltissimo in questa nuova avventura sulla risonanza nuova e con risultati molto molto soddisfacenti. Sono molto contento della qualità del lavoro e delle immagini che riusciamo ad ottenere. La risonanza nuova ad alto campo perché? Perché possiamo fare una serie di indagini su organi ed apparati che prima non potevamo fare. E quindi io parlo dell'addome, parlo dell'encefalo, parlo di tutte le indagini fatte con contrasto che prima non potevamo fare. Anche le cose che facevamo prima comunque si riescono a fare in tempi più brevi e comunque con una qualità di immagine estremamente molto maggiore, molto più approfondita. Come affrontano i pazienti? Com'è l'approccio con la risonanza magnetica? Diciamo che la risonanza magnetica inculta un pochino di timore e di suggestione. Per cui è molto importante, e io questo me lo sono sempre raccomandato e ho ottenuto degli ottimi risultati con i ragazzi, è molto importante l'approccio col paziente, il metterlo a proprio agio. Noi siamo disponibili ad illustrare la metodica con tutto il tempo che vogliono. Molti pazienti che sono molto indecisi, vengono anche prima, vedono lo svolgimento direttamente di un'indagine fatta su un altro paziente e si rendono conto di quello che è. Quindi il tranquillizzare, il rassicurare, il non avere fretta ad introdurre il paziente è un qualche cosa che ci ha dato dei risultati molto positivi. Questo è verissimo perché a tutti noi capita nella vita di essere pazienti e avere questo tipo di informazione, questo tipo di approccio è già un primo passaggio verso quella che è una maggiore sicurezza e un minore timore. Ci raccontava alcune di quelle che sono le vostre eccellenze, ma sappiamo essercene altre. Chiederei allora al dottor Grandi di illustrarci. Innanzitutto mi stava anticipando, si parla di apnee ostruttive notturne. Ci racconti quanto è importante conoscerle e soprattutto cosa sono? Allora, le apnee ostruttive, il smettere di respirare durante la notte mentre uno dorme è un problema che coinvolge moltissime persone, molto di più di quello che uno possa pensare. Spesso si entra nel campo, nell'analizzare un paziente perché magari un paziente dice mia moglie dice sempre che russo durante la notte e che smetto di respirare. Magari può sembrare solo un disturbo per qualcuno, ma non è così. Nel senso che le persone che, e sono soprattutto sia uomini che donne sono coinvolti in questa problematica, però questo problema della smettere di respirare per qualche secondo però è più frequente nelle persone che sono sovrappeso, nelle persone che hanno la pressione alta o che eccetera. E questa cosa può innescare nel tempo dei piccoli risvegli, ogni volta che uno smette di respirare senza accorgersene però si sveglia. E questo genera che durante il giorno mentre uno lavora gli vengono l'inverso delle crisi di sonno, di stanchezza particolare. Allora, come dicevamo prima che anticipavamo un po' il discorso, se questo problema del sonno improvviso, della stanchezza particolare ha a che fare con qualcuno che sta scrivendo a macchina o in un computer non è un problema, ma se questo problema colpisce una persona che sta guidando un autobus con dei bambini dentro, con delle persone dentro o un camion che sta trasportando delle cose può fare gravi incidenti. Considerate che in Italia non si sta ragionando per fare una legge che chi ha delle patenti professionali deve avere la verifica che non faccia apneostruttive la notte, in Spagna che c'è già una legge, quindi in Italia si sta ragionando in tal senso, in Spagna che c'è già una legge di questo genere per cui tutti quanti quelli che hanno delle patenti professionali devono avere la dimostrazione, devono dimostrare che non fanno apneostruttive la notte e questo ha ridotto gli incidenti stradali causati in queste cose del 20%, immaginatevi l'importanza. Domus Nova per questa cosa qui ha messo in piedi un sistema che si chiama Sonner, che è un sistema di registrazione del sonno delle persone, nel senso che la persona che abbia piacere al quale venga indicato la registrazione, quindi una polisonnografia e per polisonno non si intende solo la verifica dei respiri che fa la notte, ma la misurazione della pressione, la saturazione del proprio sangue e dell'ossigeno, eccetera, eccetera, quindi durante una notte completa viene registrata il sonno di una persona e viene analizzata poi dopo da un pneumologo e sulla base della lettura di questo tracciato si decide, tu non hai niente, vai bene così, tu hai un problema che sei sovrappeso, forse la nostra dietista può darti una mano, tu hai un problema cardiologico, il nostro cardiologo ti può dare una mano e quindi abbiamo una equip che tutti quanti insieme ragionano per punto e questa cosa serve sempre per il concetto della prevenzione che dicevamo prima, nel senso che prevenire è molto meglio che curare. Assolutamente, lo stiamo consigliando e continueremo a consigliarlo appunto nel nostro appuntamento. Si diceva eccellenze e anche novità che voi applicate, tra queste c'è anche, mi raccontava, Mona Lisa Tatcha. Una curiosità che riguarda le donne da vicino, ci racconti di che cosa si tratta? Allora, il Mona Lisa Tatcha è uno strumento laser, o meglio, il Mona Lisa è un dispositivo collegato con un laser, che noi abbiamo un laser chirurgico molto importante, che viene usato anche per tante altre cose all'interno della chirurgia, della chirurgia proctologica, anche gli odontoiatri la usano, eccetera. Quindi i dermatologi la usano abitualmente, i nostri dermatologi, i nostri chirurghi la usano abitualmente, ma il Mona Lisa Tatcha è un dispositivo da collegare a questo laser, che viene usato dal ginecologo per alleviare i sintomi legati ai sintomi che può causare la menopausa. In questo senso, non i sintomi vasomotori, la vampata di colore, ma i sintomi legati alla distrofia vulvovaginale, nel senso che i tessuti genitali femminili, risentono in particolar modo, soprattutto i tessuti sia esterni che interni, la vagina, la vulva, eccetera, risentono del nutrimento degli estrogeni. Gli estrogeni sono ormoni prodotti dall'ovaio. Come dicevamo prima, la menopausa è il momento in cui le ovaia smettono di lavorare, per cui di estrogeni non ce ne sono più. Considerate prima, e mi allargo ad un ragionamento che sicuramente è un po' strano, che la menopausa, che avviene abitualmente all'età di 50, 50 anni, 51, mediamente, poi c'è chi ci va a 48, c'è chi ci va a 52, ma mediamente a 50 anni, è un fenomeno che oggi, e dico oggi sottolineando che l'aspettativa di vita oggi di una donna è 80 anni, ma se si va indietro, non tanto, di 200 anni, di donne in menopausa erano veramente eccezioni. Oggi invece la fascia delle donne che sono in menopausa è tanta e sono ancora donne molto giovanili. La signora che oggi ha 55 anni, non posso dire che è una ragazza, ma è una signora molto giovane, per cui i disturbi che possono dare la distrofia vulvovaginale colpiscono donne che sono ancora giovani, per cui i sintomi che possono essere la secchezza vaginale, i dolori durante i rapporti, un senso di calore fastidioso, i genitali che sono cambiati, possono essere, la parola invalidanti è troppo, ma sicuramente molto fastidiosi e possono causare anche problemi relazionali, problemi di coppia, perché il calo del desiderio sessuale, il dolore durante i rapporti fa dare ovviamente un calo del desiderio sessuale e questo può dare problemi, ma non è per risolvere il problema di coppia, è per il problema della signora. Il trattamento come funziona? è un laser che come dicevo, con un applicatore si fanno almeno due o tre o quattro trattamenti in modo che il laser stimola la ricrescita, il ringiovanimento dei tessuti sia interni che esterni. Quindi una maniera di affrontare diversamente questa fase che a volte sappiamo era vissuta come una fase difficile della vita, una fase che invece anche grazie a queste nuove tecnologie può essere migliorata. Sì, mi perdoni che la interrompo, era normale, cioè è normale tutt'oggi perché è uno strumento questo che non è ancora diffusissimo, è normale trattare con ormoni, quelli che prima ho detto l'ovaio non produce più estrogeni, hai carenza di estrogeni, ti do degli estrogeni, ma sono ormoni che in un qualche modo possono essere conflittuali con una problematica tumorale della mammella, dell'endometrio, per cui soprattutto le donne che non possono, non dico non devono, ma che non possono usare ormoni, donne che purtroppo hanno avuto una problematica di un tumore alla mammella, per loro è vietato, possono solo forse guardare la scatola ma non possono toccarli, però un trattamento laser è completamente al di fuori di qualsiasi tipo di farmaco, per cui questo è il grande vantaggio, quindi che si può usare tranquillamente senza nessun tipo di controindicazioni. Ottimo, quindi ci diceva per migliorare comunque in generale, oltre appunto alla salute, la qualità della vita, una qualità della vita che nella vostra struttura viene guardata particolarmente, perché c'è una curiosità che vi raccontava che ci piace, anche perché appunto incrementa l'utilizzo di quelle che sono le forme appunto di trasporto meno inquinanti. Ci racconti un po' questo vostro premio responsabilità sociale d'azienda, un attimo, che cosa riguarda? Sì, è sempre con molto piacere che parlo di questa cosa perché non ha nulla a che fare con la sanità, ha solo a che fare con. Tanti, nel senso forse più di dieci anni fa venne coinvolti in una conferenza con l'assessore alla sanità e all'ambiente del comune di Ravenna che incentivava le aziende a fare in modo che i propri dipendenti inquinassero di meno, quindi usassero meno la macchina. Andando in Domusnova ci ragioniamo un pochettino, ma che cosa possiamo fare? Abbiamo fatto una cosa che ci sembrava una cosa facile, semplice, ma che ha avuto un grande successo al punto di dare che Domusnova ha ricevuto un premio regionale, ma sono stato a parlarne anche all'estero perché, adesso ve la racconto, ma è veramente molto semplice, non ha nulla a che fare con la sanità, ha a che fare con i dipendenti. È una cosa che dovrebbe essere incentivata. Cosa abbiamo detto per premiare i dipendenti che venivano a lavorare o a piedi o in bicicletta? A seconda della loro distanza dalla struttura da Domusnova e alla loro abitazione, davamo un premio in minuti di ferie aggiuntive. In che modo? Chi abita da 500 metri a 1000 metri ogni giorno che viene prende 3 minuti, da 1000 metri a 1500 metri come raggio d'azione, quindi da 1000 a 1500 ne prende 6, da 1500 a 2000 ne prende 9, chi viene da più di 2 chilometri di distanza da Domusnova prende 12 minuti. Considerate che in totale, non riesco a ricordarmi esattamente quanti chilometri non vengono fatti, ma c'è stato uno dei nostri dipendenti esperto di non inquinamento, eccetera, che ha calcolato quanti alberi abbiamo salvato, eccetera, eccetera, però ci sono dei dipendenti che fanno 5, 6, 7, 8 giorni di ferie in più e questo dà il vantaggio di loro non solo non inquinano, ma fanno bene a se stessi, per cui la salute del dipendente incentivati in un qualche modo ti premio se tu stai in salute, tant'è vero che abbiamo fatto una verifica che chi usa di più questo sistema di premio sono quelli che hanno meno assenze durante l'anno, assenze di malattie, quindi alla fine il vantaggio di Domusnova, parlo da un punto di vista imprenditoriale, non è solo inquino di meno, i miei dipendenti inquinano di meno, ma si ammalano di meno e poi per ultimo lascio il posto libero a un qualche paziente che invece deve venire in macchina e quindi lascio un posto libero. Per cui di questa cosa abbiamo avuto anche un premio regionale che non ha nulla a che fare con la sanità, quindi qualsiasi azienda che ha, considerate che un'azienda come la nostra il dipendente è per forza sono tanti, noi abbiamo 147 dipendenti e noi medici siamo al di fuori dei 147. Quindi voi siete premiati e siete andati in bicicletta? No, noi non guadagniamo fede per cui non siamo premiati, però è una cosa che sono più di dieci anni che abbiamo questa cosa e ci viene riconosciuta. Molto piacevole come iniziativa e ci si augura che venga diffusa anche ad altre aziende. Ci stiamo avviando verso la conclusione del nostro appuntamento, ma vorrei chiedere al dottor Marri quanto si parla appunto di prevenzione, quanto anche nel campo della radiologia è importante prevenire? La radiologia è sicuramente il caposaldo della prevenzione, tantissime indagini vengono fatti a scopo preventivo, mi riferisco alla senologia, quindi al tumore del seno, mi riferisco alle radiografie del torace per il tumore polmonare, mi riferisco alle ecografie addominali per la ricerca di eventuali patologie non conosciute o clinicamente non ancora evidenti, per cui sicuramente la radiologia, la diagnostica per immagini in genere è un caposaldo a cui si ricorre spessissimo nella prevenzione sicuramente. Quindi grande attenzione, la stessa cosa a chiedere al dottor Grandi, cosa si consiglia di mettere in pratica, soprattutto quali sono le forme di prevenzione oltre alle tante che abbiamo raccontato oggi, cosa ancora si può fare? Cosa spesso ci dimentichiamo come cittadini, come pazienti di fare? Allora, parlo prima di tutto del campo di cui mi occupo in particolare, quindi la parte ginecologica, sicuramente la prevenzione dei tumori dell'utero, dell'ovaio, della mammella, quindi ci sono tutti quanti i programmi già storicizzati da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ma da un punto di vista medico la prevenzione è anche solo il semplice controllo della pressione arteriosa, nel senso che ogni tanto qualcuno che si misura la pressione, perché se nel tempo uno non si accorge di avere la pressione alta e per anni si porta avanti la pressione alta, è molto più probabile nei confronti di un altro che si tiene controllata la pressione o perché non ne ha bisogno o perché non ingrassa o perché fa del movimento eccetera eccetera, è molto più probabile che sia la persona che soffrirà poi dopo di avere un ictus cerebrale o un infarto cardiaco. Questo qui e poi semplicemente le prevenzioni per le malattie polmonari, evitiamo di fumare se possibile. Ottimo consiglio. Ottimo consiglio. E poi sicuramente una cosa che soprattutto anche in Italia, ma all'estero soprattutto negli Stati Uniti viene dato poca attenzione è il fatto della massa corporea, perché l'indice di massa corporea che è il rapporto fra peso e altezza deve stare nel normo peso o nel lieve sovrappeso. In certi stati invece è normale mangiare molto e essere molto robusto e questo genera sicuramente nel tempo. Avete, se vi immaginate delle persone molto 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 anziane, un novantenne, tutti quanti noi conosciamo dei novantenni, pochi. li conoscete grassi grassi o li conoscete magri? Per cui se è questo qui, quindi la prevenzione della salute generale, ma anche per vivere meglio e più a lungo, è sicuramente quella del peso, quindi il controllo del peso corporeo. Bene, io ringrazio i miei due ospiti che ci hanno fatto conoscere più da vicino quelle che sono le possibili problematiche e ci hanno ricordato quanto è importante e fondamentale per la nostra salute. Quindi a tutti consigliamo sempre prevenzione. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie.